Oh, non saprei, dalle tre, le quattro. Non c'è alcun bisogno che prepari il ricevimento tutto da sola? Oh, non importa. Quando sono felice ho un eccesso di energia. Dovrò pur convogliarla. Devi essere incredibilmente felice, c'è un particolare motivo. Non è ovvio? Sono innamorata. Questo è meraviglioso! Perché non mi hai detto che frequenti un uomo? Sai che c'è? Non importa, quello che conta è che hai finalmente dimenticato Mike. Non l'ho dimenticato. Davvero? No, sciocca. Di chi credevi fossi innamorata? Ma Mike ha appena sposato Susan. Oh, tesoro. Il loro primo matrimonio è fallito e questo fallirà ancora prima. Non dormono neanche insieme. Ma tu come fai a saperlo? L'altra notte c'era la luce accesa nel soggiorno alle tre del mattino. Questo non significa un bel niente. Magari Susan voleva leggere qualcosa senza svegliare Mike. No. Mike ha commesso un errore e lo sa. Sta solo aspettando che Julie si riprenda. Così mollerà Susan e supplicherà a me di tornare con lui.